cos'è lo scrub e come può contribuire a rendere la pelle più tonica e più giovane ecco un ripasso completo dalla bici sul mondo degli scrub cosa sono, come usarli, i benefici per la pelle e come sceglierli cos'è lo scrub? lo scrub è un prodotto esfoliante che serve, cioè, a creare delle piccole abrasioni sulla pelle niente di preoccupante, stai tranquilla il compito di questo elemento essenziale per il tuo beauty è rimuovere le cellule morte della pelle questa, per correre ai ripari, sarà costretta a rigenerarsi donandoti così una pelle meno impura e visivamente più giovane lo scrub è consigliato sia per chi ha la pelle molto secca sia per chi ha la pelle molto grassa perché serve a creare un nuovo equilibrio chi ha la pelle secca, però, dovrebbe preferire un gommage, che è più leggero in questo caso, è bene controllare che ci siano degli elementi emollienti nel prodotto come l'olio di cocco chi ha la pelle grassa e, o, impura, invece, trova giovamento nel fatto che questo elemento stimola la rigenerazione delle cellule quindi consente di dire addio ad acne e punti neri come vedi, si tratta di un prodotto molto personale perché ognuno ha le proprie esigenze in fatto di pelle come sempre, è bene controllare la data di scadenza e tenere il prodotto aperto solo per lo stretto necessario così durerà di più e maggiori saranno i benefici per te come si usa lo scrub? questo elemento non va mai usato senza aver preparato prima la pelle basta la normale detersione per il viso, dovrai prima struccarti e usare un detergente infine potrai passare all'azione esfoliante una volta usato il detergente, dovrai applicare lo scrub e fare dei movimenti circolari con le mani per assicurarti che lo scrub funzioni a dovere tieni in posa pochissimi minuti segui le indicazioni riportate sulla confezione e poi risciacqui con acqua tiepida fin qui abbiamo parlato dello scrub viso ma per il corpo anche qui basta lavare la pelle massaggiare, tenere in pose e rimuovere alla fine, nutri a fondo la pelle con una crema ligera e molto nutriente l'operazione va fatta la sera prima in modo da ottenere una pelle liscia e bella già a partire dalla mattina dopo l'uso non deve essere frequente chi ha la pelle secca, deve farlo una volta a settimana chi ha la pelle grassa può azzardarsi, con le dovute precauzioni, ad applicare questa tecnica due volte alla settimana per le labbra, il consiglio è sempre di farlo una volta a settimana dato che per la pelle si tratta sempre di un trauma sempre un peeling leggero è quali sono i benefici dello scrub quali sono i benefici dello scrub eccone alcuni, pelle più luminosa se hai la pelle un po' spinta e vuoi ritrovare un tono, questa è la soluzione ideale pelle dall'aspetto più giovane e sano grazie alla stimolazione delle cellule, si ottiene nel tempo una pelle dalla grana migliore addio agli inestetismi i prodotti pensati per le gambe consentono di dire addio alla cellulite accanto a prodotti specifici come le creme snellenti migliora la bronzatura una pelle migliore attira il sole ed evita le scottature per dare il bellissimo effetto dorato che sogni in estate provare per credere gli scrub più venduti in profumeria gli scrub in profumeria sono tantissimi ma è come in questo caso è importante provare prima un campioncino per vedere l'effetto sulla pelle ed evitare trattamenti troppo aggressivi ti lascio una panoramica sui migliori scrub in commercio ma se ne conosci altri lascia un commento che li provo Collister propone diversi scrub in base alle esigenze costano e sono presenti nelle migliori profumerie ma conviene investire qualcosa per ottenere bellezza assicurata no? Geomar qui parliamo di uno scrub low cost pensato soprattutto per il corpo la confezione è abbastanza grande quindi se vuoi ottenere risultati e risparmiare è una buona soluzione Kelenic anche qui parliamo di un prodotto che si trova nelle migliori profumerie assicura risultati anche se costa potrai richiedere un campioncino di prova per vedere come va fortunatamente le aziende più grandi spesso e volentieri fanno delle campagne per le tester ti ricordo che questi prodotti durano tantissimo e che ne serve davvero poco per riuscire a vedere dei benefici concreti scrub fai da te tante ricette di scrub fai da te ne abbiamo parlato tantissimo i vantaggi principali di questi scrub è che si tratta di prodotti economici, veloci e senza sprechi e gli effetti sono assicurati dal fatto che usiamo le proprietà naturali dei singoli elementi caffè, zucchero, sale, frutta, ecc. che si trovano tranquillamente in cucina gli scrub fai da te hanno, però, uno svantaggio se sei allergica a qualche elemento non potrai usarli e alcuni sono un po' aggressivi in più, si deperiscono facilmente, per cui, devi farli ogni volta nella quantità giusta in compenso, puoi personalizzare il prodotto con le tue essenze preferite, il che è un bel vantaggio per chi ama il fai da te alcuni scrub fai da te interessanti scrub per labbra all'olio di oliva scrub corpo al kiwi anticellulite scrub viso allo yogurt fai date scrub al caffè per labbra come usarlo scrub corpo al sale marino scrub viso con farina di mais ricetta scrub corpo all'arancia per la pelle impura in conclusione lo scrub perfetto non esiste esiste prendersi cura della propria pelle e usare anche questo prodotto a questo scopo il trattamento non deve essere continuativo ma fatto solo al momento del bisogno per un certo numero di settimane massimo un mese a meno che non stiamo trattando inestetismi seri chi soffre di pelle sensibilissima deve evitare lo scrub e, anche per le creme, usare prodotti di farmacia chi, invece, ha bisogno di rigenerare la propria pelle sappia che le aziende spesso creano nella stessa linea sia lo scrub che la crema per evitare di sbagliare il potere rigenerante di un prodotto esfoliante è miracoloso ma è normale che se l'età avanza sarà necessario aiutarci con un prodotto con acido erulonico, in crema, che nutra a fondo e stimoli la rigenerazione cellulare potenziando l'effetto dello scrub in questo mondo dedicato alla bellezza il tempo deve essere quello giusto non andare di fretta e dedica qualche minuto a te altrimenti il trattamento non servirà a nulla detto questo, ti auguro una pelle rigenerata e perfetta nel frattempo, aspetto i tuoi commenti a tema scrub d'intorni i 10 migliori scrub da utilizzare prima dell'autoabbronzante dischetti peeling con acido glicolico i migliori, come usarli e a cosa servono grazie 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 grazie